Benvenuti su Matthew Ken. Oggi vedremo insieme dieci modalità diverse di eseguire l'esercizio di Cut & Co. Uno degli esercizi più utilizzati nella pratica del Pilates ma anche nello yoga così come nelle pratiche di movimento poiché è un esercizio assolutamente efficace per creare mobilità nella colonna vertebrale e per avere un beneficio globale sul nostro sistema. In ognuna delle variazioni che vedremo ci sarà una connotazione diversa, qualche piccolo dettaglio che voglio condividere con te in questo video. Iniziamo. Intanto richiamo alla vostra mente l'esercizio nella sua modalità tradizionale ovvero in quella più semplice diciamo in cui andiamo ad arrotondare la colonna vertebrale e ad estenderla a questo modo. Quindi questa è la modalità classica in cui il peso rimane invariato su tutti e quattro i punti di appoggio e iniziamo a vedere le nostre varianti. La prima consiste semplicemente in uno spostamento di peso ovvero se nel portare il peso indietro vado ad estendere e nel portare il peso in avanti ad arrotondare la schiena succederà che avrò più enfasi sulla regione toracica quando estendo e più enfasi sulla flessione lombare quando fletto. E questa è la prima variazione. La seconda è semplicemente l'inverso quindi nel venire in avanti estendo nel muovermi indietro arrotondo la schiena. Quindi qui avrò un po' più di enfasi nell'estensione nella parte bassa della colonna e un pochino più di enfasi invece nella flessione toracica quindi nella parte alta mentre fletto quindi l'inverso di prima. La terza variante invece riguarda una modifica della posizione delle braccia. Incrociamo le braccia e arrotondiamo la colonna ed estendiamo la colonna mantenendo questo incrocio che poi ovviamente andremo a cambiare e questo coinvolge un po' di più la parte posteriore delle spalle e i muscoli posteriori delle braccia quindi ho una sensazione diversa riguardo alla parte superiore del corpo. Ovviamente come dicevo poi cambieremo lato. Adesso l'obiettivo del video è semplicemente vedere le variazioni. Una quarta variazione invece ha a che fare con un incremento del lavoro delle nostre gambe. Significa che durante l'estensione andremo a sollevare i talloni, i piedi attivando i muscoli posteriori delle cosce e durante la flessione staccheremo le ginocchia con una maggiore enfasi sul core e sui muscoli frontali delle cosce, sempre inspirando nell'estensione ed espirando durante la flessione. La quinta variazione riguarda invece l'introduzione dell'utilizzo delle gambe, un po' come se fossero una prosecuzione della colonna vertebrale. Quindi distendo la gamba destra ad esempio e nell'estendere la colonna penso come se la gamba fosse la prosecuzione della colonna e poi espirando arrotondo la schiena e muovo il ginocchio nella direzione del torace. Inspiro e fuori l'aria, in ed espira. La sesta variazione invece riguarda un po' la prosecuzione di questo esercizio in cui nell'estensione vado a sollevare la gamba come abbiamo fatto prima, ma durante la flessione solleverò la gamba d'appoggio in una sorta di plank che rende ovviamente l'esercizio più intenso sul core e sul cingolo scapolare. La settima variante invece riguarda il posizionamento della gamba lateralmente e quindi se estendo la colonna e fletto la colonna con la gamba posizionata lateralmente avrò un impatto diverso sulle anche, sentirò un po' più allungare la muscolatura interna della coscia corrispondente alla gamba distesa e quindi una sensazione diversa. L'ottava variazione, come vedete alterno un po' l'appoggio sugli avampiedi, l'appoggio sul dorso, in alcune variazioni può essere utile avere più presa dei piedi in altre il piede più allungato, come in questa, che è la nostra ottava variazione in cui posiziono le mani in diagonale e quindi nel flettere ed estendere la colonna avrò una flessione laterale, quindi un coinvolgimento asimmetrico del busto che ovviamente poi andrò a ripetere anche dall'altro lato. Le ultime due variazioni, probabilmente le mie preferite, consistono nel creare uno spinal wave, quindi un'onda, onde che ricreiamo, che ritroviamo in quello che è lo stile di yoga che pratico, ovvero dhaka yoga, quindi radico gli avampiedi. Nel primo movimento ricreo colonna andando in avanti, quindi dal coccige fino alla parte alta toracica per poi estendere la colonna nella fase di ritorno. Quindi questo è il primo spinal wave, il secondo invece è l'inverso, quindi vado in estensione andando avanti e arrotondo la schiena muovendomi indietro. Movimento fluido, continuo. E questi erano i dieci variazioni dell'esercizio di cut and call e mi auguro che questo video possa averti dato degli spunti interessanti per la tua pratica e se ti è piaciuto iscriviti al nostro canale e attiva la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornata o aggiornato quando pubblicheremo un nuovo video. Da Enzo Ventimiglia, grazie di cuore e a presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!